Musica Giallo a Messina dove Viviana Parisi, 43 anni e il figlio Gioele di 4 anni sono scomparsi nel nulla. Lunedì 3 agosto dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull'autostrada 20 Messina-Palermo all'altezza di Caronia sul viadotto Pizzoturda. Della donna e del bambino che si sono allontanati nelle campagne circostanti dopo aver lasciato il loro mezzo incidentato per strada si sono perse le tracce al via le ricerche della polizia allertate dal marito di Viviana mentre la notizia è stata diffusa sui social. Tra le ipotesi al vaglio quella che la donna abbia perso, l'orientamento. Tanti gli appelli condivisi su Facebook che avesse notizie è pregato di contattare questa polizia stradale ai numeri 0905402811 e 09041852. Vi pregherei di condividere questa foto, si legge sui social.